sono molti gli argomenti che mancano a questa raccolta l'uso del guinzaglio la gestione del cane in città insegnare al cucciolo a fare i suoi bisogni fuori di casa eccetera eccetera ho scelto di dare importanza e condividere argomenti di conoscenza del cane e altri che sappiano suggerire un senso della relazione che spero possa essere un contributo allo sviluppo di una consapevolezza matura della scelta di vivere con un cane spesso l'ostinata ricerca e lo svolgimento di un metodo pratico di educazione del cane non è sufficiente a garantire una realtà in cui il ruolo del cane si dimostri armonico con la nostra vita così il senso del cane viene smarrito fra la pratica e la realtà pare esserci una distanza molti sono coloro che lamentano una frustrazione dei loro esercizi e del loro impegno e infine perdono fiducia nel cane la teoria nella teoria ho potuto riconoscere l'elemento mancante a completare questa sensibile e delicata alchimia ognuno potrà integrare la teoria con la propria personalità e le proprie esclusive condizioni di vita l'azione pratica di educazione del cane che potrà essere svolta con il mio supporto qui a casa vaicunta sarà quindi pregna di senso e aspettative coerenti che il nostro cane sarà in grado di intendere e condividere il percorso rappresentato dalle tappe di paura conoscenza coraggio e fiducia è quello che sento di aver svolto durante 23 anni di professione dieci dei quali qui a casa vaicunta prendo così congedo da questa impresa che è stata bella quanto impegnativa e ringrazio tutti coloro che volendole riconoscere un qualche valore mi aiuteranno a diffonderla